Adesso immagino che siano imminenti i bandi, proprio perché c'era la riforma in corto del Ministero che ha un po' rarmentato le cose, però adesso ci sono tutte le condizioni per, credo già alla fine del mese, per attivare i bandi e quindi l'anno prossimo avremo un direttore non solo del BAN, ma in molti museo torno.